Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Roads e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi un video speciale ed è un video speciale pasquale. Ovviamente vi ringrazio per tutti quelli che si sono iscritti e vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenere quello che faccio appunto sul mio canale di collezionismo. E niente ragazzi, non ci sarà né video unboxing di uova di cioccolato eccetera ma vi voglio parlare di una serie che voglio lanciare adesso dopo Pasqua per cui adesso sigla e poi ne parliamo assieme. Eccoci di ritorno ragazzi, come vi dicevo, nuova serie che comunque mi ha preso su ispirazione su YouTube quindi non è un format originale però quello che volevo fare io è un commento generale alle collezioni per cui ragazzi voi mi potete seguire sulla pagina Instagram di Rozza mi raccomando chiedetemi la richiesta perché al momento l'ho tenuto privato e ovviamente mi potete mandare dei brevi video dove voi mi fate vedere le vostre collezioni ragazzi che può essere Pokémon, può essere figurine, può essere bottiglie può essere qualunque cosa voi collezionate e io reagisco e commento alla vostra collezione magari vi do, mi informo appunto commentando bene se qualcuno dice io ho questi pezzi quanto può valere quindi o comunque adesso vedrò bene come pianificare per i video ragazzi o me lo mandate lì su Instagram potete fare un video verticale o comunque tipo sì se lo mandate su Instagram verticale viceversa ragazzi se me lo mandate mi potete condividere sulla mia mail di contatto oppure su WeTransfered in modo tale che io possa scaricare i vostri video e poi caricarli e commentarli quindi chiaramente sarà una reaction importante anche per darvi quelle che sono le mie opinioni su quelli che possono essere nuovi contenuti questa sarà una serie che punterò molto in questa seconda parte di 2022 oddio cioè siamo quasi sì è la metà quindi diciamo seconda parte di punto 2022 continua la road to 500 per arrivare ai 500 iscritti chiaramente il traguardo è ancora lontano ma penso che ce la possiamo fare prima o poi e niente ragazzi chiedo di avervi dato tutte le info per cui per questo speciale quindi annuncio di Pasqua noi ci vediamo in un prossimo video intanto buona Pasqua a tutti quelli che guarderanno questo video un saluto a tutti al prossimo video ciao 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 ciao